Una fetta consistente dei fondi dell'agenda urbana aspettanti al comune di Cosenza sarà destinata dall'amministrazione al sostegno di progetti specifici per il contrasto alla povertà. Queste ed altre misure sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa presieduta dal sindaco Mario Occhiuto alla quale hanno partecipato l'assessore fedele Bisceglia e la dirigente del settore welfare Giuliana Misasi. Palazzo dei Bruzzi pensa all'affidamento di nuovi servizi di spazzamento per le cooperative sociali per far lievitare le ore lavorative e di conseguenza gli stipendi dei dipendenti. Nell'immediatezza saranno erogati due buoni spese da 50 euro in favore dei nuclei familiari indigenti. Tra le altre misure anche il riordino del sostegno alle emergenze abitative per veicolare le risorse disponibili alle famiglie veramente bisognose, l'inalzamento del reddito ISEE per accedere alla fascia di esenzione del servizio per la mensa scolastica e l'erogazione di voucher per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il comune di Cosenza inoltre è destinatario di un finanziamento di oltre 3 milioni di euro erogato dal Ministero delle politiche sociali da destinare ad azioni in favore di nuclei familiari in stato di povertà. Confermiamo l'intervento che abbiamo fatto nell'anno scorso nella distribuzione dei buoni spesa alle famiglie bisognose che ammontano a due buoni di 50 euro per questo periodo latarizio. Salvatore Bruno per la CNews24 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 Salvatore Bruno per la CNews24